Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Stimmo che io e Volpesco facessimo qualcosa Questa cosa non ve l'ho mai data Per quanto magari anche nel privato e Volpe andavamo d'accordo, parlavamo e cioè insomma C'era stato comunque un contatto se vogliamo, no? Questa cosa non è mai successa Ma non lo so perché è una cosa proprio, è un mio piccolo fetish Un mio piccolo fetiscino che più una cosa Di tutto abbiamo parlato Tutto questo Un po' borderline quella parte, è stata incredibile Sì, hai trovato un lavoro Hai trovato un lavoro ragazzi, cioè porca puttana Bene Non l'ho licenziata Ti licenzo perché hai trovato un lavoro E Cos'è che volevo dire? Ultima cosa Cosa mi viene in mente? Il carisma Che mi viene in mente? Oh ragazzi Minchia ma è successo bro Mamma mia terribile No, comunque no La simpatia, sì, gli occhi, no? Quelle cose là E insomma, tutte noi abbiamo questo piano B Il cazzo di Elena Che era il inizio della carriera Su Twitch Ero sempre messa a confronto con Volpesco Boh perché parlavamo entrambi in Italia Non lo so per quale ragione esattamente Però ero la Volpesco femminile fondamentalmente C'era questo bel menino, ok? E quindi tipo il sogno di quel periodo lì fondamentalmente Era che io e Volpesco facessimo un lave insieme E Volpesco intereagissimo Che io e Volpesco facessimo qualcosa Zio, cioè sono strano, ok? Sì, no, no, no Non so di cosa parlo E quindi voglio quella roba lì Quindi voglio quella cosa da Sì, bello quello che vedo Ma allo stesso tempo Lol, che cazzo ho detto? No raga, no, no, no Che enta è leggete bro E oggi Porca puttana Se scrivi dialoghi enta Mamma mia Io sono la cazzo di regina di Antae Ok, di Allo di Antae Non so scrivere Vostra madre, vostro padre Si sono finalmente incontrati Cos'è successo raga? Allora sapete che appunto Io inizialmente Wa Ripeto proprio che è il top pensato Sì, bra Sì, sì, sì Sì L'hai detto nel modo più giusto possibile È il top pensato Esatto Non è una cosa che tu fai effettivamente Non mi devi ribaltare Non mi devi, che ne so Lanciare sul letto Già non è que È il Ho visto questa cosa Ho pensato da te e te l'ho presa Adesso, sesso, ora Sì 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 Le cazzate Fate cazzate Fate le cazzo di cazzate Non lascia A me piace invece E se va avanti e indietro sì Si mi rendo conto che tipo questa cosa è Andrà avanti e indietro un po' creepy È il mal di mare Che cazzo Bullet, grazie mille per l'abbonamento D'inghiusa mezza Quanto mi triggera sto fatto che hai avanti e indietro Come se fossi uno che vuole venderti qualcosa Non lo farò più Dicevo Non posso farmi vedere Non posso neanche leggere Stop Stop coming in my popcorn Ma che cazzo è Dai fanno ridere E io voglio questa cosa qua I'm a virgin, you know Yeah, bitch Ok, scusate Mi sto prendendo bene a leggere ientai Come amicizia? Quando ci si vuole bene Vuole solo me Ma che cazzo Basta Scusatemi Dai, basta Hai presente il tuo rapporto con Mario Quello amore platonico No, noi abbiamo chiamato un sacco di volte Che tipo nel mio anno su YouTube Non ho fatto cose con ospiti Se vogliamo Wow Secondo me ci vuole anche una certa predisposizione Come dice Stefano La mia ex minacciò di farlo con altri Ah, madonna No, così no No, it's too much Di farlo con altri Se non avessi voluto Perché era un suo desiderio E per quanto ci abbia provato Non sono mai riuscito No, così che brutto Dimmi che la tua ex Ora è la tipa di Flavio Ti prego Che credere Sarebbe stupendo No, però così non mi piace Beh Sta roba del Se non faccio con te Nel sesso questa roba Non esiste Non esiste Non esiste Ma tra l'altro poi Per Come si vive Come si vive